La mia passione per il calcio è nata grazie a mio fratello che all'età di soli sei anni mi ha messo in un campo da calcio e mi ha detto oh gioca, allora invece che fare i soliti giochi o comunque sport che fanno le ragazzine come pallavolo, ginnastica e inizialmente tutti i miei fratelli e mia mamma erano contrari ma poi vedendo che comunque ero forte e anche con i ragazzini riuscivo a fare la differenza mi hanno incoraggiato e hanno iniziato ad avere passione anche loro per il calcio femminile La cosa più difficile, ovviamente c'erano i compagni che dicevano no ma il calcio non hanno sport per femmine poi però anche loro quando hanno visto che ero forte hanno detto no devi giocare Prima esperienza in Serie A se così si può dire, sono molto agitata, già di mio sono molto agitata poi ovviamente passare da una Serie C a una Serie A A fine stagione sarò contenta se avrò fatto almeno una presenza in Serie A La differenza tra Serie A e Serie B ce n'è, ce n'è perché il livello subito si alza il ritmo aumenta decisamente, poi comunque vai a incontrare squadre dove ci sono anche certe giocatrici di categoria o comunque che fanno la Serie A da anni ci sono, è difficile, è difficile ma non è impossibile nel senso che se ci si allena bene con costanza niente è impossibile anzi penso che il Sassuolo farà un bellissimo campionato sicuramente Diciamo che io volevo proprio venire a tutti i costi nel Sassuolo l'ho fatto in modo che si realizzasse, a fine campionato ho detto bene adesso cosa facciamo? Andiamo a Sassuolo Sicuramente sapere che comunque il Sassuolo femminile era già aggregato al maschile era già un bel passo avanti comunque questo implicava il fatto che ci fosse una società solida alle spalle che le cose venissero comunque fatte poi in un altro modo rispetto magari ad altre società che purtroppo non hanno ancora questa fortuna Io penso che l'obiettivo del Sassuolo potrebbe, già come primo obiettivo potrebbe essere quello di rimanere in categoria comunque essendo il primo anno però comunque è una bella squadra molto affiatata penso che il Sassuolo farà molto bene quest'anno a fine stagione sarò contenta se avrò raggiunto tutti i miei obiettivi Forza Sassuolo!